Salve a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video. Ragazzi, anche noi siamo qui su Yu-Gi-Oh! 2 Links e ragazzi oggi è finito lo scorso evento e vi devo ancora portare qualche video ovviamente, che lo avrete a breve, ma oggi vi porto prima questo perché con l'entrata della nuova, diciamo così, patch, chiamiamola così, è stato introdotto un nuovo personaggio che poi tanto nuovo non è, ma comunque è nuovo. Sarebbe Rex Raptor che è il ruggente, se non sbaglio, è stato definito Rex Raptor ruggente. Questo qui è il terzo personaggio che ci ripropongono in questo modo perché il primo è stato Super Joy, che è appunto Joy, che diventa Super Joy, e poi My Valentine che diventa la favolosa My Valentine, che quella me la sono completamente saltata come evento, me lo sono completamente saltato. E adesso ci hanno riproposto come terzo personaggio Rex Raptor, chiamandolo il ruggente. Questo video è semplicemente di introduzione, come potete ben capire, e poi dopo di questo spero stesso oggi, se non domani, portarvi il video su come farmare ovviamente questo personaggio al livello 40 sempre. Perché per me il livello 30 veramente è alquanto inutile, se non qualche volta che sculate qualche buona carta, ma davvero ne vale ben poco la pena. Quindi andiamo a semplicemente vederlo, semplicemente a giocarci contro per vedere che cosa fa. Allora, Rex Raptor ruggente appunto, livello 30, vediamo le ricompense. Allora, le carte sono sempre le stesse, ma ci sono 3 nuove, anzi 4 nuove carte, che sono veramente buone ragazzi. Infatti, ve lo dico da subito, potrebbero risultare buone anche per chi gioca competitivo. Perché? Allora, passiamo a quella che mi ispira più di tutte, proprio detto sinceramente, Triceratopo oscuro. Allora, ragazzi, è un 6 stelle ed è un 2400. Quando attacco un mostro in posizione di difesa, infligge danno perforante. Praticamente, ragazzi, un solo tributo con, non so, già rana degli alberi, con scambio di anime e tante altre cose, questo mostro diventa facilissimo da giocare ed è un 2400. In più, ha un effetto veramente buono, cioè quello di scalare in difesa, che non è assolutamente da sottovalutare. E quindi questa carta, sì, a me piace davvero tanto, tanto, tanto. Poi abbiamo l'introduzione di Mondo Giurassico, proprio come carta giocabile, nel senso che non la potete avere solo come abilità di Rex Raptor, ma proprio come carta. Quindi, avere il 3x di questa carta, per un eventuale deck dinosauro basato su qualche cosa, è veramente, veramente un'ottima cosa. Poi abbiamo Trascendenza Spaziale Temporale. Allora dice, bandisci due o più mostri e dinosauri dal tuo cimidero, evoca specialmente dalla tua mano o cimidero un mostro o dinosauro con livello pari alla somma dei livelli di quei mostri banditi, ma esso non può attaccare in questo turno. Ragazzi, questa carta sembra poca roba, ma in realtà è molta roba. Perché? Praticamente è un mostro risuscitato, ma il mostro non può attaccare ed è un po' più complicatuccio da giocare. Quindi non potete giocarlo nelle prime fasi del duello, ma già dopo il terzo turno, diciamo così, potreste già riuscire ad attivare questa carta. Certo, non ne giocherei mai il 3x, ma forse neanche il 2x, ma una copia in un deck dinosauro può starci. In più, ragazzi, abbiamo l'entrata di un nuovo dinosauro che è veramente una cosa bellissima. Già l'immagine, ragazzi, è veramente bella. Si chiama Distruggisaurus ed è una carta ottima, 4 stelle, dinosauro, 1800. Effetto da paura, ragazzi. Praticamente abbiamo terra formale sotto forma di mostro. Puoi scartare questa carta al cimitero, aggiungi un mondo giurassico dal tuo deck alla tua mano. Vi ricordo che il mondo giurassico è questa carta terreno che fa letteralmente paura. Quindi, ragazzi, un 1800 che più 300 diventa un 2100 così. In più lo potete scartare per aggiungere la carta terreno. In più, non so, a questo punto possiamo anche non giocare più l'abilità Rex Raptor direttamente con la carta terreno, ma possiamo quindi ampliare con un'altra abilità che potrebbe darci un'ulteriore mano. In più, potremmo anche giocarci un dinosauro del genere, che non è niente di male. Quindi, ragazzi, secondo me dovete farmarlo, dobbiamo farmarlo, perché queste carte potrebbero rivelarsi molto molto buone. O comunque potrebbero far uscire un deck che io penso potrebbe quasi arrivare comunque a tier 1, tier 2 anche. Però bisogna comunque un po' vedere, insomma, tutte le carte una volta ottenute, cosa, diciamo, può uscirne fuori. Ma secondo me qualcosa di carino ne uscirà fuori. Allora, vediamo un po', perché io non ci ho mai giocato contro. Questa è la primissima volta e vorrei vedere che cosa gioca. Ok, allora, vediamo un po' il primo mostro. Ok, siamo stati fortunati noi. Quando questa carta è giocata normalmente puoi scegliere come bersaglio un mostro sul terreno. Metti quel bersaglio scoperto in posizione di difesa. Ok, perfetto. Quindi al momento è semplicemente un 1800. Ma comunque è una buona carta. Allora, penso, ragazzi, penso di poter vincere quasi in un turno. Ma non lo voglio fare. Non lo voglio assolutamente fare, perché voglio visualizzare qualche carta in più del nostro avversario con voi. Anche a costo di perdere, perché tanto non mi interessa, ma con la mano che tengo, dubito seriamente di perdere. Allora, se attacco con i 3500, con quanto resta? Ok, posso andarci diretto anche con questo. Quindi, ok, lo rimaniamo a 800 life points, che ci va molto bene. E vediamo un po' lui che cosa ci potrà giocare. Ok, niente, termina semplicemente. Terminiamo anche noi, ragazzi. Giusto qualche mano in più, perché voglio vedere che cosa gioca. Comunque questo è il livello 30. E penso che quindi sia già molto farmabile. Se, diciamo così, il suo modo di giocare è questo. Cioè, se il massimo che mi può mettere è un 1800 e poi qualche mostro coperto, secondo me possiamo fare belle cose, ragazzi. Quindi, non sarà neanche difficile capire come farmarlo. E non penso che dovrò creare qualche deck apposito, perché potrebbe bastare qualcuno di quelli che già abbiamo. Ok, gioca Capazaurus, che è un altro buon mostro di un... con punteggi d'attacco molto alti. Quindi, diciamo così, se gioca solo dinosauri con punti d'attacco molto molto alti, lo possiamo benissimo buttare giù, stesso con l'abilità dei fratelli Paradox. Ci evochiamo il 3750 e vabbè. Allora, ancora una volta gioca solo mostri, mostri con molti punti d'attacco. Quindi, ragazzi, secondo me non ci dobbiamo preoccupare. Attacco l'ultima volta, così un altro paio di turni, tanto sono molto veloci. Voglio vedere che cosa può mai giocare. Ancora un altro Capazaurus, quindi non ha veramente nulla di chi. Carte Trappole Magia non sembra che ne stia giocando, anche se penso che almeno qualche piccola carta la debba tenere per forza. Ok, giusto il tempo che arriva a 10 carte, gli do l'ultimo turno. Ok, gioca Baby Cerasaurus, che comunque è una carta leggermente di un livello più alto, quindi è un po' più buona. Ma comunque non fa un granché. Ok, sì. Ok, finalmente gioca una carta che appunto è quella per l'evocazione speciale. Ha bandito un po' di mostri e quindi il massimo, ragazzi, il massimo che ci gioca penso sia proprio il Triceratopo e penso proprio di sì, ragazzi. Quindi a questo punto possiamo concludere qui. Ok, io penso che questo sia il massimo che lui possa fare, cioè un 2400. E quindi sì, ragazzi, con l'abilità dei fratelli Paradox lo buttiamo giù senza problemi, soprattutto se lui appunto non gioca carte che ci infliggono danni. Se non gioca carte che ci infliggono danni, ragazzi, la partita è bella che è conclusa. Ok, qui potrei evocare anche l'altra fusione, ma non mi va, sinceramente, tanto abbiamo vinto, quindi attacchiamo il primo, attacchiamo con il secondo, perfetto, e ci andiamo diretto con i 1500 ed è finita. Ok, ragazzi, quindi penso che se il livello 40 è simile al livello 30, penso che non ci vogliamo assolutamente nulla. Ve lo posso dire sin da adesso, il livello 30 per quello che ho visto gli abbiamo fatto utilizzare metà deck, lo potete benissimo fare con il deck dei fratelli Paradox che io uso per farmare, sempre lo vedete in tanti dei miei video, o anche il deck quello con Thea e con le ragazze infelici. Penso che entrambi i deck vadano più che bene per sconfiggere Rex Raptor almeno al livello 30, ragazzi, e dico almeno al livello 30. In più, ragazzi, una cosa che mi sono completamente dimenticato di dirvi è che hanno fatto di nuovo tipo un duellatun, questo coso qui che ci fa ogni tanto prendere dei premi man mano che giochiamo e prendiamo punti ed è stato basato principalmente appunto su Rex Raptor. Quindi se affrontate proprio Rex Raptor otterrete un sacco un sacco di punti in più. Poi ovviamente, ovviamente, vedete ogni giorno avete dei premi che sono questi qua che a me manca solo l'ultimo già tra 6 ore scade. Come vedete le percentuali Rex Raptor è quello che ne dà di più, poi duellanti classificati, duellanti leggendari, vagabondo e i duellanti standard. Come premi potete ben vedere che ci iniziano a regalare un Triceratopo e un mondo giurassico. Quindi come carte assicurate abbiamo queste due. Avrei preferito ovviamente un mostro di questo però non ce l'hanno dato quindi dovremmo farmare e farmare ancora. Voglio andare a vedere ma non mi sembra che ci siano le missioni speciali. Infatti non hanno introdotto le missioni speciali perché mi sa che è la prima volta che è stato messo Rex Raptor quindi lo abbiamo di nuovo e quindi non le hanno introdotte. La prossima volta le introdurranno. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto sia stato interessante e come al solito vi ringrazio e mi raccomando iscrivetevi, commentate e condividete questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo con il prossimo. Bella raga!